Musica Ciao a tutti ragazzi sono Merlocraft e oggi siamo qui in un velocissimo video di update sul nostro mondo moddato Allora, 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 ho un paio di cose da dirvi Ovvero io con la prossima settimana, quella dal 5 al 12 luglio, sarò in campeggio Sarò a fare l'animatore a dei piccoli ragazzini di quarta e quinta elementare Quindi non potrò registrare dei video per voi Quindi, allora, che cosa farò? Allora, ho registrato 3 episodi del let's demo dato in anticipo e saranno caricati uno domani, uno martedì e uno venerdì Intanto gente che rompe le palle, wait, wait, wait Ok, scusate Allora, sì, allora, appunto ho registrato 3 episodi del let's play in anticipo E quindi posso caricarveli, credo E cosa ho detto? Domenica, martedì e venerdì Anche se, essendo che sono in alta montagna, non so quanto bene prenderà internet E quindi se spero di riuscire a farveli uscire tutti insieme Spero anche di riuscire a caricarli perché la mia rete fa schifo, eccetera Il livello, se tutto va come ho previsto, dovrebbe uscire domenica, martedì e venerdì Inoltre, un episodio di quelli che avevo registrato L'ultimo episodio che avevo registrato ancora due mesi fa Perché non so se avete notato L'episodio fino al 13 che avete visto voi Sono stati registrati in anticipo E un mesetto fa, due mesi fa Prima che me ne andassi da YouTube Ecco, insomma, anche se poi sono tornato, ma vabbè E sì, quindi L'ultimo filmato è stato cancellato Cioè l'ho cancellato, lo sbaglio Non riesco a farlo funzionare, insomma E quindi non potrà essere caricato Quindi le cose che ho fatto nell'episodio 14 Che per voi sarà un altro episodio Ma insomma l'episodio originale 14 Non potranno essere viste Vi faccio un piccolo ricapitolamento Adesso Ve lo faccio? No Forse ve lo farò Nell'episodio 17 Che sarà quello che uscirà Aspettate È quello che uscirà quando tornerò Quindi o venerdì o quando tornerò D'ogni modo uno degli ultimi che usciranno E lì vi farò il ricapitolamento di quello che ho fatto D'ogni modo si tratta Poi sap poco di questa stanza qui E del settare questa cosa qui Un attimo Questa cosa qui Principalmente Quindi ok Per questo episodio È Cioè non è un episodio In realtà Per questo velocissimo Velocissimissimo video di update È tutto Io vi ringrazio per la visione Se vedete un po' di spoiler Per esempio vi faccio un super spoilerone È tutto Io vi ringrazio per la visione Vi rimando il prossimo video che caricherò E ciao ragazzi È tutto